L'arte è sicuramente una forma di linguaggio. In questo linguaggio l'artista decide come comunicarci il suo messaggio. A volte gli artisti contemporanei decidono dei modi simbolici che la gente comune difficilmente comprende e dà lo stesso valore. Tanti di noi pagherebbero per acquistare un quadro in cui l'artista decide di residere una tela attraverso una lama, trasmettendoci così il concetto di spazio, di attesa. Grazie per la visione!